Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi domenica 10 settembre. Diciamo che l'Italia, non soltanto l'Italia, ovviamente è sotto una bomba d'acqua. La notizia di oggi è Livorno, i morti di Livorno. Si tratta di un disastro di proporzioni purtroppo note, così come quello dell'uragano di cui parlano tutti quanti in Florida. Ma quali sono i temi invece, diciamo, quelli cicciotti che in genere noi andiamo a seguire perché riguardano il dibattito sociale, culturale e politico italiano? Beh, ovviamente è la storia dei carabinieri. La storia dei carabinieri oggi si arricchisce della prima confessione. Uno dei carabinieri dice che si ha avuto un rapporto sessuale, d'altronde erano state trovate tracce biologiche, difficilmente avrebbe potuto negarlo, ma il rapporto sensuale era consensiente. L'avvocato delle ragazze americane dice, ma scusatemi, i rapporti sessuali, lo stupro non avviene solo con le violenze fisiche, può avvenire anche con la minorata difesa da parte di chi subisce lo stupro. Il caso era di queste due ragazze che erano palesemente ubriachi, una si è fatta anche un cannino. Quindi l'avvocato delle ragazze dice, guardate che lo stupro non è soltanto con la violenza e quindi in questo crinale si giocherà nei prossimi giorni il tema tra violenza sessuale e stupro e rapporti consensienti che è la difesa del carabiniere. Inoltre c'è una questione fattuale che è molto importante e quindi chiudolo qui la crotaca. Alcuni sostengono, la difesa dei carabinieri sostiene che sono state invitate su dalle ragazze, al contrario le ragazze dicono che i carabinieri sono saliti su. Insomma, nelle prossime ore sapremo ancora di più di queste cose, però vi dico come il mondo dei giornali si articola su questo. Il Corriere della Sera mi sembra molto colpevolista, diciamo, posto che c'è stato un rapporto sessuale e quindi già la colpa c'è, non per il fatto che i rapporti sessuali siano colposi, dolosi e siano gravi in sé, ma ovviamente un poliziotto, un carabiniere con la difesa non passa alle tre di notte in giro ad avere rapporti sessuali con la macchina parcheggiata sotto la casa americana o non americana e anche se fosse stato consensiente, un carabiniere non tromba in servizio. Chiaro? Ma addirittura dice il Corriere della Sera il rischio è molto superiore, sapete qual è? È che il rapporto non fosse consensiente, ma queste fossero ubriache e quindi essendo ubriache se ne sono approfittate. Devo dire che nel panorama dei giornali italiani Repubblica è molto più attenta alle ragioni dei carabinieri, dice beh attenzione perché le versioni sono tutte quante da vedere e stiamo attenti a trarre conclusioni, quindi mette da una grande parte la difesa, sente l'avvocato della difesa, quindi Repubblica ha una posizione meno diciamo colpevolista di quanto abbia il Corriere. Belpietro sulla verità che voi vi immaginate essendo un giornale di centrotesta dovrebbe essere difesa dei carabinieri per partito preso, in realtà è durissimo. Belpietro dice ragazzi questi carabinieri è inutile che si difendano con la consensienza da parte di una delle due americane. Il punto fondamentale è che era ubriaca e fradice tant'è che i carabinieri li hanno scortati a casa, cosa che non mi sembra essere l'attività principale dei carabinieri fare da taxi, tant'è che le hanno portate sopra in casa proprio perché non riuscivano a salire, beh se non riescono a salire riescono ad avere un rapporto consensiente, direi proprio di no, dice Belpietro. Ma Belpietro fa una conclusione ulteriore, chi è il capo dei carabinieri? E' questo il generale del 7 che è stato capo in Toscana, in Toscana ci sono tanti casini che hanno fatto i carabinieri, del 7 l'uomo di Renzi sostiene Belpietro è già indagato per la questione Consi, insomma Belpietro prende l'occasione al volo per criticare il generale del 7. Via, dice Belpietro. Noiosissimo. Giavazzi oggi dice anche delle cose giuste, ma io vi dico la verità quando leggo Giavazzi, anche se ovviamente da liberale condivido molte delle sue cose, mi annoio mortalmente, anche perché parla di cose che non sono di attualità, cioè sono sempre di attualità ma non sono di stringente attualità. Oggi un commento, magari facciamolo sulla web tax, cosa pensano i liberali del fatto che l'Europa si arrabbia sul fatto che Amazon, Google, Facebook, Twitter e Airbnb non pagano le tasse in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, ma le vanno a pagare in Lussemburgo. Guarda caso, con Lussemburgo abbiamo il presidente, ex presidente Lussemburgo che fa il presidente dell'Europa e che ci fa adesso la morale sull'evasione fiscale, ma questo è un altro dettaglio. Quindi, caro Giavazzi, mai delle cose liberali sulle questioni di cui si parla oggi. Oggi la web tax ne parlano tutti, questo tema di trasferire gli utili nei paradisi fiscali, addirittura inventarsi delle triangolazioni per non pagare, sono il tema fondamentale perché quattro paesi hanno chiesto al vertice di Tallin a metà settembre di discutere di questa roba. Rampini dice che si tratta di un furto sistematico, certo è che le felpette che ci fanno la morale sui diritti di tutti quanti, certamente sui diritti patrimoniali e sui diritti delle tasse, diciamo dell'equità fiscale, dovrebbero stare zitti. Domani si presenta il 12 settembre e l'iPhone faranno questa grande cosa, questa grande manifestazione. Oggi parliamo della presentazione dell'iPhone, come un tempo si parlava, non so, di una grande star, oggi invece è l'iPhone che batte Venezia. Oggi tutti i titoli su Venezia, il leone eccetera, me ne sbatto io moltissimo di queste robe perché tutti gli anni mi spiegano se l'unico tema fondamentale è se Venezia è più fica di Cannes o Cannes è più fica di Venezia. Abbiamo scoperto che quest'anno Venezia è più fica di Cannes. Devo dirvi la verità, vedremo i film, io non ho avuto il privilegio di dirli, in genere è una bella garanzia perché siano delle cagate pazzesche i film che arrivano da Cannes e da Venezia. Il Sole 24 ore ci parla delle prime mosse della finanziaria, non dovrebbero tagliare le detrazioni, quelle che facciamo sulla sanità, sulle ristrutturazioni, l'edizio eccetera, ma dovrebbero avere incassi derivanti della fatturazione che tutti noi dovremmo fare elettronica. Come questo possa avvenire? Due miliardi di incassi della fatturazione elettronica non lo so, però la cosa che invece dicono è che si dovrebbe rifare la rottamazione delle cartelle esattoriali che ha portato un botto di soldi, circa 8 miliardi. Beh, il PD dice Veltroni oggi dovrebbe riscoprire la sua vera ambientalista, nel momento del casino pazzesco, Livorno governato nel Movimento 5 Stelle che fa dell'ambientalismo il suo criterio fondamentale, cosa dice oggi in maniera molto importante Veltroni su Repubblica? Dobbiamo riscoprire la sinistra, riscopra l'anima ecologista, benissimo, perfetto. Serra, sempre su Repubblica, ha un'altra idea, una, dice la sinistra dovrebbe candidare gentiloni, da rivoluzionari a gentilini, a marchigiani sono diventati gli intellettuali di sinistra. Ultima cosa che mi appassiona oggi è quella che fa, in ultime due cose, la Gabanelli, le firme a favore della Gabanelli che si autosospese da Rai perché non le piaceva l'offerta che gli aveva fatto Orfeo, io so le offerte irrinunciabili che la Rai ti fa, che sono offerte che sono assolutamente rinunciabili perché sono dei trappoloni, in quel caso conviene non autosospendersi, mi viene a dire, ma proprio andarsene via come ho fatto io, certo capisco per uno che è stato per 20 anni in Rai è più difficile, ma Giletti pure ha preso e l'offerta irrinunciabile coraggiosamente l'ha mollata per andare dall'altra parte. Invece, invece, la Gabanelli si autosospende, il fatto raccoglie le firme e Bisignani sul tempo oggi mi racconta che cosa può essere tutta sta manovra, sarà la vera candidata, dice, di bandiera del partito del Movimento 5 Stelle e ci sta perché il fatto Movimento 5 Stelle, Gabanelli è quel bel frontrunner che aspettavano i 5 Stelle. L'ultima cosa straordinaria, leggetela, io non sono uno di quelli che dice che Vitalizi sono una cagata, non sono uno di quelli che dice che la politica fa tutto schifo, i politici devono tutti morire, eccetera, però ragazzi oggi quando io leggo sul giornale tutti i voli privati che ha fatto Alfano tra Palermo e Roma, tra Catania e Roma, dico, porca miseria, non c'è motivo di prendere un volo privato pagando 6.000 euro all'ora, soprattutto in affitto perché non sono il 31esimo stormo, leggetevi il giornale, non è possibile che questo ci faccia spendere i soldi dei contribuenti per i suoi voli privati, diciamo che hanno sempre una parvenza non di privati, ma per fare la campagna elettorale in Sicilia. E questa è una cosa pazzesca e poi dici perché c'è 5 Stelle, perché c'è l'antipolitica, perché porca puttana pensare che un politico tra Roma e Palermo non prenda l'Italia con gli orari dell'Italia, è una roba che ti fa un po' innervosire, no? E poi dici no, i grillini nascono, no, perché un imprenditore se li paga con i soldi suoi, un ricco se li paga con i soldi suoi, Alfano se li paga con i soldi nostri, ci sarà una differenza? Ciao, buona domenica.